Una buona giornata dagli studi di ETV Mark e ben ritrovati alla prima edizione del nostro telegiornale che voi come di consueto potete seguire in contemporanea e in diretta sul canale 12 del digitale terrestre e naturalmente anche sulla nostra app che si scarica in maniera gratuita per smartphone e per tablet sul nostro sito www.etvmark.it sulla nostra pagina facebook in primo piano torniamo a parlare dell'imminente ormai possiamo dire sbarco della Ocean Viking al porto di Ancona la nave sta navigando verso lo scalo dorico con 336 migranti in auffraghi a bordo tra cui anche alcune famiglie e minori non accompagnati la nave di SOS Mediterranea ha superato San Benedetto del Tronto ma viste le condizioni non ottimali del mare la proda alla banchina 19 è previsto verso le 18 Queste le ultime informazioni che sono arrivate anche da fonti vicino alla prefettura la nave dovrebbe arrivare intorno alle 17 fuori dal porto poi una pilotina la scorterà nell'ingresso verso il molo per l'attracco operazione della durata di circa un'ora Sono alcune delle informazioni che ricordiamo in particolare quella che la nave ha salvato ben 359 persone inizialmente prima di uno sbarco di altre 26 a Catania ed ora procede verso il porto di Ancona È il numero più alto di migranti che arriveranno in porto la prefettura coordinerà le procedure di sbarco e accoglienza che si svolgeranno insieme alle istituzioni, associazioni di soccorso e tutti gli enti coinvolti Si attende ancora la conferma del numero di minori non accompagnati e questo ovviamente ve lo potremo rendere nel corso della giornata il numero è arrivato a 43 inizialmente ma potrebbero esserne stati sbarcati alcuni Dopo l'attracco le procedure di assistenza e riconoscimento funzionale al ricollocamento in Italia si concentreranno all'interno del pala indoor di Ancona I minori non accompagnati verranno accolti in strutture marchigiane mentre gli adulti e i minori accompagnati delle famiglie saranno trasferiti tra Lazio, Toscana e Puglia Le operazioni comunque potrebbero durare molte ore visto l'alto numero di persone da identificare e poi ovviamente anche da assistere per conoscere le loro condizioni di salute Noi saremo al porto dalla banchina con collegamenti in diretta per cercare appunto di raccontarvi questa operazione di salvataggio Operazione che però in qualche modo è stata criticata non certo nei salvataggi delle persone quanto più per il viaggio che hanno dovuto compiere fino ad Ancona dai sindacati e da alcune associazioni del posto che ha detto siamo indignati per le modalità con cui è stato gestito il soccorso costringendo in Aufriga ad affrontare un viaggio di oltre 1450 chilometri un viaggio che ha peggiorato le condizioni di salute dei sopravvissuti fatto sta che risulta incomprensibile considerando che la nave è approdata al porto di Catania ma solo a 23 persone è stato consentito sbarcare non si arresta la strage che avviene nei nostri mari ai danni di chi è disperatamente povero e insegue la speranza di una vita migliore fugge da guerre, persecuzioni e povertà questi gli interventi, la presa di posizione da parte di alcuni sindacati appunto e le reti di volontariato del territorio Cambiamo argomento, parliamo invece di cronaca che in qualche modo si lega al porto di Ancona perché c'è questa news da dover vedere, ovvero che la guardia di finanza e l'agenzia delle dogane dei monopoli hanno salvato 30 cani che erano stati importati illegalmente nel corso dei controlli naturalmente effettuati anche al porto un'auto era proveniente dalla Turchia ed è sbarcata da una motonave proveniente dalla Grecia 30 cani trasportati in condizioni assolutamente precarie in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione degli animali da compagnia e di conseguenza erano stati introdotti illegalmente in Italia pensate che tra questi 30 ce n'erano addirittura 21 cuccioli che avevano meno di 90 giorni di vita che è l'età richiesta dalla legge per poter essere trasportati ed erano anche privi di microchip come possiamo vedere anche da queste immagini i cani sono stati sequestrati e i due proprietari denunciati all'autorità giudiziaria per traffico illecito di animali da compagnia e maltrattamento gli animali sono stati poi affidati e ora custoditi presso un'idonea struttura della provincia di Ancona a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei successivi provvedimenti ed ora cambiamo argomento parliamo di un crimine assolutamente odioso quello delle truffe agli anziani vediamo quali possono essere gli strumenti per contrastarle anche attraverso un vademecum da parte della prefettura di Fermo Laura Meda mamma o papà ho perso il cellulare mi si è rotto il cellulare o è finito nell'acqua pertanto dammi soldi per poterne comprare un altro adesso io ti dico qual è il mio conto corrente nonna per favore aiutami si presentano a casa ecco magari il giorno stesso o il giorno dopo della erogazione delle pensioni e chiedono soldi spacciandosi per il direttore dell'ufficio postale che doveva controllare le banconote che sono state erogate il giorno prima sono sempre più ingegnose oggi le truffe perpetrate soprattutto a danno degli anziani difficile anche per chiunque non cascarci quando ogni dettaglio combacia perfettamente con la realtà ci sono poi delle organizzazioni che sono particolarmente attrezzate nello studio della vittima che loro hanno già appuntato magari da tempo della quale conoscono abitudini e contesto familiare per cui sono in grado di realizzare una truffa proprio mirata e studiata e tagliata su misura per quella situazione il comune di Fermo ha deciso di scendere in campo a fianco dei propri anziani con attività di informazione e comunicazione su più fronti nei centri sociali e nei luoghi dove possiamo incontrare le persone per diffondere, per far capire che purtroppo oggi non c'è da tirarsi quasi di nessuno noi come servizi sociali rimaniamo sempre aperti con il nostro numero di telefono faremo un'altra locandina dove si specificheranno tutte le truffe che eventualmente si può ricevere De Pliani, incontri informativi e anche uno spot televisivo con Massimo Macchini in onda su varie emittenti e circuiti Non rende l'anziano solamente vittima ma lo rende anche carnefice nel senso che a un certo punto lo spot lui capisce insomma che viene truffato e quindi si fa una rivalza su questa situazione Cosa dice Macchini agli anziani allora? Beh io no, più che agli anziani mi viene da dirlo ai truffatori dico state attenti perché questi anziani non sono così vittime come voi pensate ma da adesso in poi inizieranno a svegliarsi quindi state molto attenti non vi fate vedere State molto attenti, un appello anche ai truffatori da parte di Macchini andiamo invece a parlare di Ponte Garibaldi a Senigallia perché insomma ci sono delle novità in merito alla ricostruzione e lavori che dovrebbero partire nel 2024, sentiamo nel servizio Bocciata dal comune di Senigallia l'ipotesi del nuovo Ponte Garibaldi obliquo ma c'è il sì per lo spostamento a monte purché resti perpendicolare al fiume la soluzione proposta dal comune tenendo conto dei problemi di viabilità è di realizzarlo 30 metri più a monte in corrispondenza del bocciodromo restando perpendicolare come quello precedente ma spostato più a monte resterà così della stessa lunghezza e saranno più brevi i tempi della progettazione e dunque della consegna dei lavori sicuramente è un ponte su cui stiamo discutendo io penso che sia arrivato quasi alla quadra finale quindi più o meno cercare di poterlo concepire con un franco di un metro e mezzo sopra la massima e piena due centennale come prevede la legge i tempi? credo che e spero che possa essere fatto quanto prima entro il 2024 sicuro vado molto largo rispetto a non do mai tempi brevi perché se no è un disastro però se fosse anche prima sarebbe meglio io me lo auguro entro il 2024 una volta definito il progetto di ponte Garibaldi verrà deciso il destino anche del ponte degli Angeli che dovrà necessariamente essere reso più sicuro credo che ci saranno i provvedimenti anche per quanto riguarda il ponte degli Angeli che sappiamo essere attenzionato in questo momento anche da dati giudiziari e che credo da un punto di vista regionale verrà rivisto soprattutto da un punto di vista commissariale poi abbiamo sempre il problema delle ferrovie dell'ultimo ponte che è quello ferroviario e la statale noi eravamo al Ministero, al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti speriamo appunto di poter avere delle soluzioni queste le parole da parte del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti cambiamo invece decisamente argomento ci spostiamo ad Ancona e conosciamo un progetto che serve anche a combattere le disparità digitali nonostante quello che si possa pensare sono tanti cittadini che non riescono ad accedere ancora a tanti servizi online perché ad esempio hanno difficoltà con lo speed, con le email, con la PEC, con le varie iscrizioni ai siti ma anche quei cittadini che rimangono indietro e quindi qui parliamo di democrazia digitale anche sul campo dell'informazione perché non sono magari in grado di consultare giornali online hanno difficoltà con i cellulari, con le nuove tecnologie Casalinghe e casalinghi digitali un progetto che nasce dall'idea di fornire competenze informatiche di base a coloro che ne sono sprovvisti le casalinghe e i casalinghi appunto che non hanno modo di imparare altrove ad esempio sui posti di lavoro i rudimenti del mondo digitale il progetto elaborato da Scolastica patrocinato dal comune di Ancona e a cui preso parte anche il comune di Senigalia ha vinto il bando del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono alla ricerca di bandi che ci mette nelle condizioni di poter dare sempre più servizi i progetti sempre per il bene del cittadino i progetti che hanno vinto sono stati pochissime le domande invece erano state centinaia quindi grande soddisfazione nelle Marche ci sono ben 9.400 casalinghe e casalinghi per coloro che lo vorranno se appartenenti a questa categoria saranno previsti nell'arco di un anno otto corsi di formazione webinar da 42 ore ciascuno ogni classe webinar sarà formata da 150 allievi per partecipare a quest'azione formativa bisogna necessariamente avere la polizia assicurativa dell'INAIL questa polizia assicurativa ha un valore economico bassissimo 23 euro per diventare iscritti alla nostra azione formativa noi mettiamo tutti le nostre abilità a loro disposizione perché stiamo cercando di semplificare questa pratica perché per dimostrare di essere iscritti alle casalinghe digitali bisogna avere questa assicurazione in AIL per avere l'assicurazione in AIL bisogna avere speed, pago pa e chi più ne ha più ne metta e quindi qui nasce la problematica che fa cortocircuito che è uno degli obiettivi del corso mettere tutti nella condizione di muoversi nel minor, nel miglior modo possibile all'interno del mondo digitale queste le ultime io prima di chiudere vi voglio ricordare che più tardi saremo naturalmente in diretta collegati dal porto di Ancora perché sta navigando verso lo scalo d'orico con 336 migranti in auffraghi a bordo tra cui anche famiglie minori non accompagnati la nave Ocean Viking della ONG OSS Mediterranea l'imbarcazione ha superato San Benedetto come abbiamo detto prima viste le condizioni non ottimali del mare la prodo alla banchina 19 è previsto verso le 18 poi seguiranno tutte le operazioni di identificazione naturalmente anche di controllo accertamento sanitario dei migranti che sono stati salvati dalla ONG OSS Mediterranea ed era anche la nostra ultima notizia per il momento mi fermo qua ma tutte le news e le video news le trovate sempre pubblicate e aggiornate sul nostro sito www.etvomarche.it e sui nostri social grazie per l'attenzione l'augurio di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi arrivederci grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione